Roberta Celi, assessore con Massimo Cialente, oggi candidata consigliere con l'Udeur a sostegno di Giorgio De Mattes, si profila un testa a testa al ballottaggio tra due settimane, insomma come si può recuperare ulteriormente il terreno nei confronti del sindaco uscente? Ma sicuramente, io sono candidata con Giorgio De Mattes perché ho cercato di avvicinarmi a quelle che sono le mie idee, le mie aspettative, il programma che il sindaco ha proposto e il ballottaggio era quasi certo, adesso i risultati ancora dovranno arrivare e il terreno si recupera per quanto mi riguarda per il mio candidato sindaco parlando con la gente in questi 15 giorni che rimangono.